Siamo con Lorenzo Ariaudo, autore del secondo gol che ha deciso questa gara a spalla a Frosinone. Che Frosinone hai visto? Ho visto una grande squadra che ha lottato dall'inizio fino alla fine, che tutti insieme siamo riusciti a portare a casa questi punti importantissimi in un campo molto difficile. Lorenzo, quanta soddisfazione c'è, soprattutto quanto può contare, quanto può essere pesante una vittoria del genere? È pesante, ma soprattutto per il nostro umore, perché tornando a casa con tre punti da questo stadio è comunque molto complicato, loro devo fare complimenti alla spalla che siamo una grande squadra. È importante soprattutto per il nostro morale, che venivamo prima da un periodo un po' così, e siamo riusciti a dare continuità al risultato con il Vicenza. Quarto gol in campionato ormai non è più un caso. Guardo partita per partita, sono contento di questi gol, ma l'importante è che siamo riusciti a portare a casa i tre punti, che è la cosa più importante di tutti. Simile a quello di Novara, Lorenzo? Novara era di piede, però era col destrone. Sì, vabbè, tutti, sì, sì, dai, diciamo di sì, l'importante è che sia entrata. Lorenzo, parli prima di una vittoria importante per il morale, però è importante anche per la classifica, perché ci riproietta in testa davanti a tutti. Quanto è importante, a parte per il morale, per il campionato questi tre punti? Ma sono importanti, perché, come ho detto prima, danno continuità al risultato con il Vicenza, che è un risultato importante, e sono contento perché siamo tornati di nuovo in testa, e dobbiamo comunque continuare così, pensare di fare il nostro campionato senza pensare alle altre, alle altre squadre che sono le altre che devono pensare a noi, e noi non dobbiamo pensare alle altre, dobbiamo pensare a fare il nostro campionato. Senti, 1200 tifosi del Frosinone arrivati qui, un bellissimo colpo d'occhio sia nella curva nello stadio della Spalla, ma anche nel settore del Frosinone, perché portare 1200 tifosi qui non è cosa da tutti i giorni. Tre punti importanti anche per loro? Sì, soprattutto per loro, perché sono sempre molto calorosi, ci sostengono sempre, e siamo davvero felici, infatti l'ha dimostrato fino a partita, che la felicità che abbiamo donato ai tifosi è importante. È una città che merita tanto, perché ci seguono sempre in tanti e ci sostengono sempre. Adesso, venerdì, il prossimo impegno si chiama Cesena, sempre qui in Emilia Romagna, però contro una squadra che il campionato ci ha insegnato di non sottovalutare mai le squadre che sono in fondo alla classifica. No, no, è un campionato strano, perché puoi vincere o perdere con tutte, quindi dobbiamo arrivare concentrati, come sia stato oggi, e pensare a riportare a casa i tre punti e basta. Grazie.